Presentata al Salone di Turino del 1972, la FL1 rappresenta al tentativo di Francis Lombardi di incrementare il prestigio del marchio e allo stesso tempo amplificare l'offerta di modelli, puntando a una clientela più raffinata ed esigente rispetto al target abituale della piccola carrozzeria di Vercelli. La FL1 era una vettura dall'impostazione tipicamente sportiva, a due posti secchi e motore posteriore centrale, e contraddistinta da un design decisamente all'avanguardia per l'epoca. Il contesto storico in cui nasce è quello dei primi anni 70, che vede un proliferare di prototipi sempre più ricercati sul piano del design, alcuni di quali talmente estremi da risultare impossibili da omologare. Erano anni in cui si cercava ispirazione dalla fantascienza per il design e dalle competizioni per la meccanica, e il risultato erano prototipi fantastici, incredibili e sulla carta velocissimi, ma come detto spesso non realizzabili. A differenza di tanti di questi, la FL1 nasceva con il preciso scopo di essere prodotta, seppure in piccola serie. Questo interessante concept, a parte le componenti meccaniche, era stato interamente progettato e sviluppato dalla carrozzeria di Vercelli. La sua realizzazione trae origine dal progetto denominato internamente alla Francis Lombardi tipo 7102, indirizzato alla creazione di una vettura sportiva raffinata e di elevate prestazioni. Nella piccola azienda studiano un pianale, la cui filosofia anticipa quella seguita dalla Lancia, o meglio, dall'Abart, nel concepimento della Beta Monte Carlo gruppo 5 prima e della 037 in seguito. Una scocca centrale portante, a cui sono saldati due talai tubolari, uno frontalmente e uno al retro, che fanno da supporto alla parte meccanica. Questa struttura raffinata richiedeva un vestito all'altezza, che venne imbastito direttamente dal centro stile Francis Lombardi, nello specifico dal designer storico della carrozzeria piemontese, Giuseppe Rinaldi. Il tipografo con lobby del car design confeziona una linea decisamente avverinistica e moderna per l'epoca, caratterizzata da un frontale affilato, la cellula centrale distinta e il volume di coda dalle forme squadrate e morbide. Al momento della presentazione, il design della FL1 lascia il pubblico del Salone di Torino a bocca aperta. Il frontale è sicuramente la parte più riuscita, con un equilibrato intersecarsi di linee tese enfatizzate dalla curvatura che segue l'andamento dei passaruota e si raccorda al parabrezza. Il cofano anteriore, come sui prototipi da gara, è un tutt'uno con i parafanghi ed è incernierato frontalmente. La parte superiore dello stesso ha in evidenza una scalfatura, longitudinale centrale, che divide la presa d'aria superiore. I fari sono a scomparsa, o meglio, occultabili, come indicato sulla cartella stampa rilasciata dalla Francis Lombardi, e sono preceduti visivamente dall'alloggiamento dei ripetitori laterali e delle luci di posizione. Altri due fari supplementari sono posizionati nella presa d'aria inferiore, che ispirerà tante altre vetture. Il sottile paraurti orizzontale dà origine a una linea tesa a cuneo, che attraversa la fiancata e si raccorda il paraurti posteriore. Questo è composto da due elementi distinti, separati dalla sede della targa quadrata. Leggermente più in alto troviamo i gruppi ottici, di derivazione Alfa Romeo Duetto, delimitati da due sfoghi d'aria. Il cofano del vano motore, ampio e sottile, ha un andamento piano. Il padiglione, dal parabrezza fortemente inclinato e l'arco centrale massiccio, è forse la parte più discussa dell'intero design, in quanto all'epoca appariva quasi una forzatura, mentre anticipava tendenze stilistiche viste un decennio dopo, su vari prototipi dei primi anni Ottanta e su vetture di produzione come la Pontiac Fiero. L'intero design, come detto, è innovativo, anche se incorpora alcuni elementi già visti sulla Ferrari BB di Fioravanti, come le proporzioni, il disegno del frontale e l'andamento della parte inferiore della fiancata. Anche lo studio degli interni prevedeva soluzioni particolari, come la simmetria della plancia e la forma della stessa. La parte meccanica si basava su uno schema da super sportiva, con telaie ausiliari saldati alla scocca a supportare tutta la meccanica e il motore in posizione centrale. Quest'ultimo era il 2 litri boxer dell'allora Miraglia Lancia, la 2000 iniezione elettronica, scelto perché permetteva di abbassare il baricentro della vettura e di snellire il design del terzo volume. Questo propulsore, primo motore di serie italiano ad adottare l'iniezione elettronica, sviluppava 125 cavalli, sufficienti a spingere la FL1, grazie anche all'aerodinamica favorevole, oltre i 200 km orari. Alla Francis Lombardi si valutarono anche soluzioni alternative, come il V6 Ford che equipaggiava la Capri RS. Il cambio era a 5 marci, i freni a disco sulle quattro ruote e le sospensioni a ruote indipendenti. Il progetto era stato sviluppato nei minimi particolari ed era pronto al passaggio alla produzione. Negli intenti di Francis Lombardi, questa bella a due posti, anche in risposta al notevole interesse catturato durante il salone, avrebbe potuto essere prodotta in una piccola serie, composta inizialmente da 150 a 200 unità eventualmente replicabili. La piccola carrozzeria però stava attraversando un periodo difficile, omologo a quello che hanno vissuto tutti i piccoli costruttori italiani. Una fase critica, che si è accentuata proprio all'epoca della presentazione della FL1, con la crisi petrolifera che metterà tutte le auto sportive nel mirino, accusate di inquinare e consumare tanto. E nell'arco di pochi anni ha falcidiato la maggior parte dei marchi storici dei carrozzieri italiani. La Francis Lombardi non suggì a questo destino e chiuse i battenti nel 1974 e con lei terminò la commercializzazione delle sue apprezzate speciali su base Fiat e le speranze per tutti gli interessanti progetti in cantiere. Ma contrariamente a quanto è spesso accaduto a tanti prototipi che non hanno avuto alcun seguito, per la FL1 ci fu una seconda possibilità. Infatti, a fine anni 70, l'ingegnere Ferruccio Covini, fondatore e titolare della Covini Engineering, acquistò il prototipo della FL1 e sul suo progetto costruì una nuova sportiva che venne presentata al Salone di Ginevra del 1981. Battezzata Covini B24, questa vettura, conosciuta anche come Sirio o Turbo Cooler, era identica alla FL1, a parte la colorazione e l'aggiunta di due montanti in stile Maserati Merak sul volume di coda. La B24 era però innovativa nella meccanica. Montava infatti un inedito e potente motore turbo diesel realizzato dalla VM, che le permise di diventare la prima autovettura a gasolio di riproduzione a superare i 200 km orari. Venne prodotta in pochissimi esemplari, commercializzati negli Stati Uniti, alcuni dei quali equipaggiati con il 2005 Boxer della Lancia Gamma Coupé. Ma quella della Covini B24 è un'altra storia, che vi presenterò a breve. Torniamo alla Francis Lombardi FL1, altra testimonianza dell'estro, della genialità, della vitalità, dello stile e della filosofia automobilistica italiana. Altra vettura che avrebbe meditato migliore sorte e che invece, così come tante, troppe auto, idee, intuizioni, marchi e aziende italiane, è stata travolta da una crisi che, come tanti altri eventi pilotati, è servita a sminuire prima, smembrare in seguito e infine annientare l'intero comparto industriale produttivo italiano, con ovvie conseguenze socio-economiche che hanno trasformato l'Italia in un paese da terza mondo. E qui è meglio che mi fermo. Grazie a tutti.